Ho vinto a San Raffaele, ho vinto una tappa al giro di Sardegna, stavo anche lì per vincere la Tirreno di Riattico, quello che ha vinto l'Italo Ziglioli e in salita è stata una caduta, io ero dentro e stavo per provare a staccare Ziglioli e sono caduto e ho rotto il gran toccantere del femore. Diciamo che lì non sono più stato io, non potevo più andare con i rapporti lunghi in salita come io volevo, in 12 anni di carriera, prima che io smettessi che non avevo ancora 32 anni, ho vinto solo 12 gare, due o tre volte buone.